Replica perfetta da torneo, parte 2. Questa è una replica che abbiamo creato, cuscito e perfezionato qual è stata la richiesta del cliente, più leggera possibile. Con questa verniciatura, e ci ha inviato una foto, prestazioni e affidabilità migliori sul mercato. Quindi noi siamo andati a comporre questo Rock River Arms Full Metal, 9 pollici, assemblato completamente da zero. Esternamente abbiamo applicato la colorazione che ci ha richiesto il cliente e siamo andati a modernizzarla il più possibile con queste sfumature sul nostro calcio MOE, sull'innesto del caricatore, parte anteriore del rail e parte anteriore del silenziatore. Creando così questo effetto fumé sopra il camo che secondo me la modernizza molto e la rende un pelo più sportiva considerando la base molto sportiva. Come peso, escluso gli accessori, siamo riusciti ad avere 1,7 kg quindi una piuma. Per completare non poteva mancare una stupenda grip PTS e PGC e uno sgancio caricatore leggermente scheletrato. Meccanica naturalmente full custom, su Gearbox CNC più leggero al mondo allineato e calibrato alla perfezione in cui siamo andati a creare addirittura un guidamolla dedicato super alleggerito. Quindi molti di voi a questo punto si chiederanno ma quanto costa un progetto del genere? mai abbastanza rispetto alle emozioni che proverete nell'utilizzarlo? Ciao!